dal pala Mazzalovo di Montebelluna buonasera da Lucio Michieli e Massimo Ronconi non ha giornato del campionato di serie A di calcio a cinque ed è derby qui a Montebelluna tra Marca e Lufarenze bilancio in perfetta parità tre vittorie a testa e tre pareggi cosa che aspetti oggi? Beh Marca Trevigian nettamente favorita Marca Puzzal favorita soprattutto perché in casa non ha ancora subito nessuna rete viene da sette vittorie con sedi la Lufarenze è squadra un po' discontinua credo che sarà difficile oggi portare via qualcosa da qua. Noi prima della partita poco fa abbiamo ascoltato i due allenatori e cioè Tiago Polito e Giulio Fernandez Correa ascoltiamo le loro impressioni. Un derby molto importante per la classifica e anche per il Veneto. Derby tra Marca e Lufarenze. Iniziamo dagli ospiti della Lufarenze Giulio Fernandez Correa certo. Allora cosa cosa vi aspettate oggi sarà veramente difficile qui al Palamazzalovo? Per loro sono convinto che farà fatica no? Minimo sarà una bellissima gara perché siamo due squadre che giochiamo vogliamo la palla vogliamo portare palla lo vogliamo giocare. Dopo il risultato è veramente è un derby non si sa mai come può finire questo. È un derby nel derby perché Tiago Polito è portoghese Giulio Correa Fernandez invece è spagnolo e quindi una una cosa in più diciamo per cercare di vincere. Questo non c'entra niente anzi tante volte siamo amici facciamo collaborazione tra di noi. È importante oggi è dare una una buona dimostrazione di un mondo un calcio a cinque aperto entusiasta con due squadre che vogliono prestare che vogliono avere la palla e sicuramente sarà una partita divertente per tutti quanti. Calcio a cinque spettacolo tra il Murigno che saresti tu del calcio a cinque e il venitese della situazione. Tra Tiago Polito e Julio Fernandez sicuramente sarà una partita bellissima. Qual è quale sarà la tattica per fermare la marca? Fare un gol più di loro e fare una difesa più forte che quello che faranno loro sono convinto di che questa partita peccato perché anche lui ha fatto la natura arfignano e anche io ho fatto la natura arfignano manca questa terza società no allora solo queste derby purtroppo però sono sono sicuro che anche lui le manca le manca questa questa società qua nel Veneto. Il bilancio è in parità tre vittorie per parte in questo derby e tre pareggi che cosa succederà oggi? Vediamo è una partita aperta come abbiamo già parlato può succedere tutto anche una squadra che può andare in giornata può essere vincere. Chi temi di più dei giocatori della Luparenza? No sono due squadre che quello che valono più è un collettivo quindi tutti quanti sono bravi poi vediamo. Stesso discorso c'è un giocatore da temere in particolare nella marca? No io credo che il gioco del gruppo veramente credo che siamo due due allenatori che piace tanto il gioco di squadra no allora per noi è importante mantenere l'identità di gioco no fino adesso abbiamo stato abbiamo stato un po' irregolari no su sulle partite però un derby lo cambia tutto e lunedì ho detto ai ragazzi che queste partite qua non bisogna per me è più semplice perché non non bisogna neanche ricaricarli. Poca lupo che mora anche il pastore. Di nuovo in diretta di nuovo in diretta dal Palla Mazzalovo di Montebelluna noi proponiamo subito le formazioni iniziando dalla Luparenze allora i dodici sono Weber Emanuele Aiala, Pellegrini, Aiala, Gabriel che è il gemello poi Cilavert, Bertollo, De Luca, De Oliveira, Vampeta, Canal, Barone e Martino. Allenatore abbiamo visto Giulio Fernandez Correa, marca, andiamo anche subito sulla marca, il dodici, Peller, Caverzan, Wilhelm, Amin, Patias, Cocco, Bellomo, Patrick Nora, Bertoni, Calmonte, Jonas, Taborra, allenatore Tiago Polido. Ed ora proponiamo subito anche i quintetti che scenderanno in campo. Luparenze, vediamo il Portaveber, Pellegrini, Cilavert, Vampeta e Canal. andiamo subito anche la marca, vediamo la marca. Intanto l'incontro è appena iniziato. Vediamo la marca, Feller tra i pali, Nora, Wilhelm, Jonas è subito, subito il vantaggio nel contempo della marca. Sorprese immediatamente la Luparenze, Wilhelm nell'uno contro uno con Vampeta sulla parallela, scarica al sinistro, troppo fuori Weber che non chiude il cono della porta, palla sul secondo palo, marca in vantaggio immediatamente e questo è un gol importantissimo perché dà ancora più fiducia alla squadra di Tiago Polido. Ecco la cosa interessante proprio che non abbiamo potuto prendere neanche 30 secondi per raccontare le formazioni che subito il calcio a cinque spettacolo ci ha sorpresi. Subito il vantaggio della marca, marca aggressiva. Ma marca sempre molto aggressiva in casa, a parte che insomma viene da sette vittorie consecutive, questo già è fondamentale, ha pareggiato solo la prima, a casa di un Ponzio Pescara anche era una partitaccia, ma io credo che insomma sarà difficile per la Luparenze oggi, anche perché l'assenza di Onorio è fondamentale per questa squadra. Onorio è un giocatore straordinario e mancando lui manca un po' di fantasia alla squadra oggi. Ricordiamo anche l'assenza dall'altra parte di Duarte anche gli squalificato. Intanto la Luparenze adesso ha la circolazione di palla, sta cercando di rientrare in partita con Cilaverta, abbiamo visto subito scaricare verso Canale, ancora all'impostazione i giocatori con Pellegrini della Luparenze, ora chiamato in causa Vampeta, palla sulla destra verso Cilaverta, circolazione, ancora Pellegrini e va l'uno contro uno e viene fermato molto bene in questo caso da Patias. Ancora Cilaverta, ancora circolazione, Luparenze che comunque sembra al momento non aver risentito del gol a freddo diciamo della marca. Sì sicuramente, ecco adesso c'è verticalizzazione, per il momento però il gioco è molto orizzontale e la marca non fa fatica a contenere gli attacchi della Luparenze. Cilaverta, Pellegrini palla sulla destra, attenzione subito, grande conclusione di Vampeta e grande anche la parata di Feller. Sì qua da molto laterale, calcia molto forte sul primo palo, secondo me un po' troppo esagerata la parata di Feller, era una parata difficile ma non così plateale. Attenzione adesso subito, Pellegrini ha cercato Vampeta nel mezzo, non l'ha trovato ma Luparenze è in partita e sta cercando di pareggiare. Palla sulla sinistra, lo stesso Vampeta, attenzione all'uno contro uno contro Patrick Nora, poi la palla arriva sulla destra, ancora Vampeta all'impostazione, ancora chiamato in causa adesso Cilaverta, attenzione Cilaverta, palla verso Vampeta, subito indietro e c'è il break della marca con Patias che si inserisce e riesce a rubare il palla. Sì qua attenzione. Attenzione a Wilhelm adesso, palla indietro verso Patrick Nora, la circolazione sulla sinistra, ancora Patrick Nora, vertice basso, Jonas sulla destra, Nora, Nora chiama Wilhelm sulla destra ancora in azione, palla ancora sulla sinistra, attenzione perché c'è una buona opportunità ancora per la marca, adesso che riparte dalla destra con Patias scambi rapidi, palla ancora per Jonas che va all'uno contro due, addirittura viene chiuso all'ultimo momento da Canal. C'è concretamente una diversità nell'intensità del gioco tra le due squadre, molto più veloce e rapido. Attenzione adesso a Vampeta, questo break per la Luparenze, Vampeta va all'uno contro uno, poi viene fermato all'ultimo momento da Wilhelm. Qui c'è stata una buona di partenza, c'è la superiorità numerica, Vampeta non l'ha sfruttata. Stavo sottolineando la differenza nel giro palla, la marca è molto più rapida e più incisiva, la Luparenze è molto orizzontale e prevedibile. Per il momento Vampeta, cerca Pellegrini, non lo trova, break con Patias della marca, ma Patias non trova Jonas e possono ripartire così i ragazzi di Giulio Fernandes Correa con Cilaverta all'impostazione, palla sulla sinistra verso Vampeta, poi ancora Pellegrini chiamato in causa, palla verso Canal, ancora la palla poi sulla sinistra verso Vampeta, Vampeta con sempre opposto a Patrick Nora e attenzione a Cilaverta la conclusione che viene sventata adesso con il piede destro da Peller. Questa è una buona idea, cioè quella di aprire il campo, di avere più ampiezza nel gioco, questo consente alla palla di filtrare nei tagli, cosa che è successa precedentemente con Vampeta, ma è stato molto attento Peller. Alla rimessa in gioco va Patrick Nora, attenzione perché Patrick Nora ha rischiato il passaggio verso Jonas, Wilhelm all'impostazione, chiama ancora Patrick Nora molto basso sulla linea del portiere possiamo dire, poi dopo trova molto bene in questo caso Jonas che va, Patias cioè che torna poi sui suoi passi, chiama ancora Patrick Nora, ancora Nora all'impostazione, prova sulla sinistra verso Jonas, Jonas ancora verso Patias, Wilhelm chiamato in causa, ancora la circolazione sulla destra verso Patrick Nora, c'è un assist buono in questo caso verso Jonas, leggermente troppo lungo. Bellissimo, contro movimento Jonas su Canal, poi leggermente lungo il taglio di Nora, ma buona circolazione, buona idea soprattutto da parte della marca. Luparenze in avanti adesso con Pellegrini, chiama ancora sulla destra Canal, fermato da Patrick Nora, riparte così Weber, palla verso, attenzione a questo nuovo break della marca, alla conclusione Wilhelm potrebbe andare, invece viene chiuso all'ultimo momento da Vampeta, poi c'è un ottimo controllo di palla da parte di Jonas, preferisce ricominciare da Patrick Nora, poi adesso chiamato in causa Bertoni verso Patrick Nora, palla in avanti, comoda la presa di Weber. Sì, qui non si sono capiti nel contro movimento, hanno messo la palla sopra mentre il giocatore stava rientrando per ricevere basso. Ancora un momento di stanca della partita con la Luparenze che non riesce a rendersi pericolosa in avanti ed è costretta ad una circolazione rapida per non perdere il pallone con il pressing alto dei giocatori della marca, in questo caso adesso all'impostazione sta andando, attenzione a questo è scivolato, in questo caso adesso Vampeta e Jonas viene affrontato in maniera scorretta da Pellegrini. E qui è un mismatch, Jonas è molto più rapido di Pellegrini, Pellegrini non ha potuto far altro che ostruire con il corpo, Jonas aveva fatto passare la palla da una parte ed era passato, punizione pericolosa perché ci sono dei tiratori importanti, una marca primi fra tutti, Nora e Patias. Sì, dovrebbe essere proprio Patias ad andare alla conclusione, vediamo se preferirà scaricare oppure cercare sulla sinistra i compagni liberi, no, è una conclusione ribattuta dalla barriera. Qui non c'era la possibilità, barriera messa molto bene, non si è mossa, Patias ha cercato di calciare centrale, la barriera ribattuta. Patias verso Patrick Nora, chiama in causa, Jonas, conclusione rapida, alta. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo, sì. No, l'arbitro non l'ha segnato, scusami. Sembrava calcio d'angolo anche a noi, devo dire. Adesso all'impostazione, nuovamente qui c'è un rischio, prendono un rischio i giocatori della Luparenze con De Oliveira che infatti perde palla, alla rimessa del gioco sarà della marca in tenuta nera, alla rimessa va Bertoni. Patrick Nora, conclusione leggermente fuori. Gran tiro di Patrick Nora anche se da molto lontano. Questa volta era sorpreso Weber, fortuna per la Luparenze che non ha accolto lo specchio della porta. Cinque minuti abbondanti di gioco, palla Mazzalovo, Montebelluna, marca in vantaggio nel derby Veneto, 1-0 sulla Luparenze. Ma è buona la marca perché continua a spingere nonostante il vantaggio, la mentalità è una mentalità vincente, è una squadra che non sta lì a speculare. Ha cambiato modo difensivo, da una difesa molto bassa per cercare di rubare il pallone è passato a una pressione. Adesso vediamo la Luparenze, l'impostazione sulla sinistra in questo caso con De Oliveira che poi chiama in causa Vampeta, 1-1 con Patrick Nora, Vampeta e viene chiuso da Nora. Si arrabbia Pellegrini ma il problema è che lui non aveva appoggi per i compagni, tutti nascosti, non c'era passaggio, ha dovuto cercare lo spiraglio e nel frattempo Nora gli ha allungato il pallone in fallo laterale. Vampeta comunque all'impostazione verso Canal, circolazione adesso di palla verso De Oliveira, ancora prova Canal ma non trova Pellegrini e quindi la marca comodamente riprende dopo 6 minuti di gioco in vantaggio 1-0 a impostare in attacco verso la palla subito, subito verso in questo caso Bellomo ma abbiamo visto adesso Pellegrini all'impostazione, la Luparenze che adesso si sta difendendo bene, c'era stato, attenzione perché Canal qui viene chiamato in causa da Vampeta ma non controlla bene il pallone, sarebbe stato un'occasione ottima per il pareggiare. Si perché adesso è salita in pressing come dicevamo prima la marca e allora c'è lo spazio per i tagli, per la possibilità dell'uomo di girare dietro come ha fatto Canal in questo caso. Attenzione a una nuova opportunità con Bellomo che tiene palla per la marca, poi chiama in causa Patrick Nora verso Bertoni, ancora Nora, c'è Jonas che chiede palla sulla sinistra, viene poi servito, va all'uno contro uno, attenzione a Jonas, torna sui suoi passi, preferisce far ricominciare il compagno Nora, poi Bertoni ancora sempre sulla sinistra, conclusione con deviazione, stavolta abbiamo visto bene, deviazione di Weber, del calcio d'angolo. Daidone ha visto bene da lì vicino, ancora una volta velocissimo, il gioco della marca, poi portano Bertoni sulla fascia, sinistro velenoso, Weber riesce a metterci la mano. Sempre 1-0, i minuti di gioco sono ormai 7, chiarimenti in campo tra l'internazionale, l'arbitro internazionale Massini e i giocatori, vediamo la conclusione adesso ancora di Nora, deviata in corner. E qui ancora una volta Weber si era lanciato, prima che arrivassi il pallone la deviazione l'avrebbe sorpreso, fortuna per lui la palla è terminata fuori. Vediamo adesso ancora Patrick Nora, che va a calciare questo angolo da destra, interessante, ha cercato Jonas che è stato chiuso da, molto bene in questo caso da Vampeta, ancora Nora, e ancora Bertoni subito, la conclusione è chiuso, in questo caso ancora da Vampeta. E qui giocano una difesa a due a zona e due a uomo, è fatta molto bene dalla Luparenze, per il momento non c'è spazio. Infatti Bertoni è costretto ad andare subito alla conclusione fuori. Vediamo adesso la nuova impostazione della Luparenze, che sta sì giocando bene, ma è sempre sotto di un gol al palla Mazzalovo di Montebelluna, nel derby Veneto con la marca. Marca, che come sottolineava anche Massimo poco fa, viene comunque da, ricordiamolo, sette vittorie consecutive, e quindi questo la dice lunga sulla forza della squadra allenata da Tiago Polito. Ma soprattutto in casa, come dicevamo prima, ancora deve subire una rete, e questo è sintomo di una grande solidità difensiva, oltre che di grande qualità dal punto di vista offensivo. Bell'uomo all'impostazione adesso, Wilhelm, Wilhelm tiene palla, poi cerca sulla sinistra Bertoni, non lo trova. Molto buono in questo caso è stato l'intervento di Gabriela Iala. Poi ancora lo stesso Gabriela Iala, chiamato in causa, preferisce servire a Vampeta, molto arretrato. Palla adesso sulla sinistra per De Oliveira, ancora verso Vampeta. Vampeta e De Oliveira. Terde palla, Bell'uomo, Bell'uomo controlla molto bene, poi chiama in causa Wilhelm, e c'è un fallo, abbiamo visto, forse solo la rimessa in gioco. Vedremo tra poco, attenzione, ecco, rivediamo. Sembra sia stato toccato il giocatore. Sì, sulla caviglia sinistra da Gabriela Iala, l'arbitro è molto vicino, è sembrato all'arbitro che avesse inciampato, invece era stato colpito. Vediamo, infatti, da rimessa laterale. Rimessa, solo rimessa laterale, incaricato è Coco. Vediamo come usufruirà di questa opportunità in attacco per la marca. Nuova rimessa dal lato opposto, sul pallone andrà Bertoni. C'è un attimo, adesso le due squadre si stanno riposando, diciamo così, dopo un avvio davvero entusiasmante. Sì, c'è stato un grandissimo ritmo fino a questo momento. La Luparense, ripeto, tiene molto il pallone, ma verticalizza poco. L'assenza di un pivù di ruolo la penalizza in questo senso. Il suo 4-0 deve essere molto più rapido e veloce e cercare maggiormente i tagli alle spalle dei difensori. Attenzione adesso a Weber, che cercava Vampeta nel mezzo. Non lo trova perché chiude molto bene Bertoni. La rimessa sarà della marca. Wilhelm chiama per sé il pallone. Lo offre subito a Coco, che va all'impostazione verso Bertoni, ma sbaglia tutto. E quindi alla rimessa va C-Lavert per la Luparense. Coco non è entrato bene in partita. Ha già sbagliato un paio di appoggi. Non è facile entrare a gara iniziata quando il ritmo è così alto. Bellomo, Bertoni, Coco, Bellomo. Palla sulla sinistra verso Bertoni. Troppo alta. Riprende quindi la Luparense con C-Lavert. Canal, C-Lavert, Gabriele Iala. Gabriele Iala si accentra. Cerca sulla destra ancora di spostare, quindi l'asse di gioco. Così Canal adesso cerca ancora Gabriele Iala. Potrebbe andare alla conclusione di sinistro. Grande questa conclusione, ma sicura la risposta di Peller. Da molto lontano è centrale. La palla era molto centrale. Ma ancora una volta Coco si è fatto saltare troppo facilmente. C-Lavert ancora. Attenzione a Canal. Poi molto bene viene fuori la marca con Wilhelm. Wilhelm che offre ancora Bertoni. Verso Coco. Bertoni. Poi Bellomo, ancora Coco. Ottima questa trama con Wilhelm. Che va alla conclusione alta. È qui molto bene. È andato via in mezzo. Poi è calciato da lontano. Ma lui è dotato di un gran tiro. La palla si è alzata sopra la traversa. Intanto vediamo ancora l'impostazione ai giocatori della Luparense. Con Gabriela Iala. La palla è profonda. Ma comoda per Feller. Che poi chiama in causa Bertoni sulla sinistra. Poi Wilhelm. Ancora Bellomo. Attenzione a Coco. Con calma verso ancora Bellomo. Bellomo che poi cerca Bertoni sulla sinistra. Lo trova Bertoni. E ancora Bellomo. Ma la conclusione che obbliga a questa parata interessante di Weber in angolo. È buona la giocata. Perché Bertoni aspetta l'arrivo di Bellomo. Che calcia col sinistro. Trova lo spazio per far passare il pallone. In ritardo ci la verte. Weber ci mette ancora una volta le mani. E devia in calcio d'angolo. Angolo da destra. Coco all'impostazione per la marca. Conclusione sul fondo. È di Wilhelm. Intanto noi approfittiamo di questa pausa per dare subito dei parziali. A Napoli il Bisceglie sta vincendo 3-1. Con gol di Melise per Napoli. Per Eira. Pedotti e Rodolfo per il Bisceglie. Ponzio e Pescara Caus sono sullo 0-0. Diamo anche i risultati finali. Invece Astia TS 3-2. A Cagliari il Montesilvano ha vinto 2-1. Mentre la Lazio ha battuto il Putignano 8-2. Ieri l'Acqua e Sapone aveva battuto l'Augusta 7-4. Alla rimessa in gioco adesso va Cilaverte per la Luparense. In zona d'attacco. Zona importante. Attenzione subito alla bella conclusione. Dalla distanza di Pellegrini. Para con sicurezza Feller. Sì è difficile sorprendere un portiere come Feller da quella distanza e soprattutto da una posizione così laterale. Adesso un fallo qui. L'arbitro nella precedente azione ha ripreso molto Cilaverte e Bellomo mi pare. Perché con questa marcatura a uomo nei calci d'angolo, nelle palle inattive ci sono parecchi scontri al centro dell'area. All'impostazione la marca con Wilhelm. C'è un fallo netto stavolta di Cilaverte su Patias. Quindi si riprenderà con una punizione. Dicevamo dei risultati. Risultati che cambiano un po' la classifica. Perché in attesa di questo derby Veneto, la Lazio si è portata in testa a quota 24 con la marca che naturalmente vincendo rimarrebbe prima a 25. Comunque rimane il fatto che marca e Lazio stiano un po' prendendo il largo. Beh sai, sono fino adesso le due squadre più continue. C'è stato lo scontro diretto. Qui ha vinto nettamente la marca. Ma da quella partita la Lazio ha saputo riprendersi. E ha inannellato una serie di vittorie consecutive. La Lazio è formazione dotata di giocatori eccezionali. È sicuramente una delle favorite per la vittoria del titolo. Attenzione adesso alla marca con Wilhelm. Che sulla sua conclusione viene deviata in angolo ancora da Canal. Ci ha pensato un po' troppo. Doveva calciare più rapidamente. Ha dato tempo e modo ai giocatori di piazzare la difesa. La palla è stata ribattuta. Attenzione, ancora Wilhelm all'impostazione. Chiama in causa Patias sulla destra. Patias ancora verso Wilhelm. Potrebbe essere chiamato in causa Jonas. Invece preferisce servire Jonas. Poi perdono palla piuttosto banalmente adesso. Con Pellegrini che protegge per la Luparenza. Chiama in causa subito Cillavert. Chiamato in causa ma perde palla. E quindi Wilhelm può andare a questa ottima assist. per Cocco che raddoppia. Qui grandissimo contropiede. Qualità straordinaria. Perché nella posizione pivot si fa toccare il pallone Cillavert. Guarda qua. Parte in contropiede Cocco. Wilhelm passaggio perfetto. Stop a seguire. E palla dall'altra parte. Cocco fa un numero clamoroso. Perché è lui che in posizione difensiva riesce a mettere il piede. Adesso andiamo subito però sulla panchina della Luparenza. Ascoltiamo quindi Giulio Fernandes Correa. Un passo da. La palla laterale qua. Questo è il medio. Taglia l'entralinea. Per liberare la palla a fare miglia e per poter diare. La santa che gioca una squadra. Solo quello. Sono ragazzi che vanno su. Vanno su. Vanno su. E risulta che nessuno scarica la palla. Non prendete la palla nel messo. Ok? Solo quello. Lavoriamo un po' sul possesso di palla. Vediamo cosa succede in pochi minuti. Vai, vai, vai. Mamma mia, vai, vai. A piazza, a piazza. Cosa ne pensi Massimo? Sì, non ho capito molto. Devo essere sincero. Probabilmente è molto arrabbiato. Dicevano di non andare nel mezzo. Molto arrabbiato per quell'anticipo di Cillaverde. Però lui deve capire che la squadra non trova la profondità della sua squadra. Non c'è il pivote. Non c'è il pivote. Si è messo in posizione pivote Cillaverde. Ingenuamente si è fatto toccare il pallone. Da lì è nata la ripartenza del 2 a 0. Ma il problema in questo momento è che non trova spazio perché non è veloce nella circolazione di palla e nello smarcamento e soprattutto non ha profondità. Nuovamente la Lufarenza comunque cerca di andare in avanti. Adesso con Emanuele Aiala sulla destra. Guadagna comunque una buona rimessa con Cillaverde all'impostazione verso Pellegrini. Chiama in causa subito Canal. Ne è entrato Emanuele Aiala. Cercava nel mezzo Pellegrini. Jonas però lo anticipa. C'è un attimo di confusione. Adesso le due squadre non riescono a superarsi. Quindi nuovamente palla sulla sinistra impostata da Cillaverde. Adesso verso Canal per la Lufarenze. Bella adesso questa finta di Emanuele Aiala. Che chiama in causa Canala. La conclusione parata in angolo di Feller. Questa buona giocata. Però quello che ha detto Fernandez non è stato seguito. Perché Aiala la prima cosa che ha fatto è andata a mettere la palla in mezzo. Per cui evidentemente vedono loro molto bene. Bella questa conclusione. Fuori però di Emanuele Aiala. Subito rapido. Contropiede adesso di Matias. Rapida ripartenza della marca. Finisco il concetto. Vedono evidentemente loro da dentro il campo la difficoltà ad andare in profondità. E cercano questo tipo di situazione. Jonas. Patrick Nora. Jonas. Wilhelm. Patrick Nora. Attenzione a Wilhelm. Weber lo chiude così. Rischiando forse un po'. Ma qua buona anche la soluzione sua parallela. Qui attenzione perché bellissima. Stavolta bellissima era stato l'aggancio di Canal sul lungo lancio. Ma non riesce a bucare la difesa di Feller. Ricordiamo le tue parole. Che la marca, cioè finora, non ha ancora subito un gol. Qui al pala Mazzalovo a Montebelluna. Grande aggancio. Ancora Canal che sta dando spettacolo, dobbiamo dire. Verso Vampeta. Conclusione. E qui davvero grande parata di Feller. Che l'arbitro mi sembra che non abbia visto perché non concede l'angolo. Secondo me con la mano sinistra, con la punta delle dita. Ha sfiorato il pallone Feller. Sì, sì, c'era la deviazione del portiere. Feller ha l'impostazione su Jonas. Jonas verso Wilhelm. Troppo profondo questa palla. Troppo profonda verso Jonas. E così va nuovamente all'impostazione Vampeta per la Luparense. Vampeta che chiama in causa sulla destra ancora Canal. che dobbiamo dire sta giocando piuttosto bene stasera. Canal ancora verso Emanuele Ayala. Emanuele Ayala ancora cerca Canal sulla destra. Poi chiamato in causa adesso Vampeta. Sulla destra provava a cambiare gioco verso Pellegrini. Ma non lo trova. E quindi alla rimessa andrà Jonas. E qui il problema è che ha troppa fretta la Luparense. Quel passaggio può essere anche buono ma in una situazione di gioco diversa. Prima devono far girare il pallone e aprire la difesa. Altrimenti...